Ma che mondiale stiamo vedendo ragazzi? Ma chi lo vuole vincere sto mondiale? Io non ho parole, per carità è ancora presto, ma finora le big veramente molto deludenti togliendo la vittoria della Francia a culo, che comunque dal punto di vista del gioco non mi ha impressionato affatto tutte le big una delusione, forse l'unica se la consideriamo big la Croazia che ha fatto abbastanza bene, ma per il resto veramente malissimo e il Brasile questa sera ha una delusione, lo dico veramente con il rammarico perché io tifo Brasile io sono diventato brasiliano in questo mondiale perché devo tifare per una ragazzi il mondiale senza tifare una squadra, senza Italia già è una bestemmia una la voglio tifare, tifo Brasile e questa sera molto deludente non mi aspettavo onestamente il Brasile così in difficoltà proprio dal punto di vista fisico io ho visto la Svizzera correre per 3-4 volte il Brasile i primi 20 minuti, premessa, sono stati spettacolari del Brasile una roba veramente bellissima, secondo me nei primi 20 minuti ho visto il più bel calcio finora del campionato del mondo duetti nello stretto, tranei, Marcutigno, Marcelo, tutta quella qualità hanno ragazzi veramente a buttare ce ne hanno talmente tanta veramente che è una roba imbarazzante poi, madonna, cutigno, mi fa proprio rosicare mi mordo le mani, i gomiti, mi mangio tutto cutigno ragazzi che gol ha fatto oggi è stato il migliore in campo ha fatto il gol veramente, che è uno spettacolo il gol più bello del torneo, fino ad ora assolutamente penso che cutigno, la capacità che abbia di calciare lui da fermo anche in movimento da quella zona di campo dei 25-30 metri destro a giro, come mette proprio la caviglia, la prende di collo interno sotto l'incrocio dall'altra parte, nessuno al mondo in questo momento veramente, ha fatto un gol spettacolare spettacolare e io da quel momento in poi ho detto ehi, adesso il Brasile andrà veramente a nozze, avrà più spazi l'ho visto col freno a mano tirato, ho visto proprio non andare ad aggredire ho detto, ma perché? E ho capito col passare del tempo ragazzi che forse è anche proprio una questione fisica non li vedevo proprio aggressivi in campo non avevano gamba al contrario invece la Svizzera ha fatto un partitone due palle così ci ha messi in campo Berami è stato proprio versione Mazzarri Show praticamente lo vedevi correre ovunque Neymar lo ha annullato per un'ora abbondante di gioco Neymar oggi abbastanza male, deludente Berami ha fatto un partitone, Berami, Zemaili hanno giocato veramente all'italiana se si può dire così e la Svizzera non ha rubato niente non ha rubato niente sul gol della Svizzera cappellata colossale di Miranda che si perde l'uomo in quel modo c'è stata una spinta, ma proprio leggerissima non era assolutamente fallo e finisce con un pareggio strameritato poi Miranda stesso poteva farsi perdonare alla fine con quell'occasione gol se era sui piedi di Neymar o di Coutinho era un'altra storia è capitata sui piedi di Miranda e vabbè quindi finisce con un pareggio pareggio per me giustissimo Brasile mi ha deluso questa sera mi ha deluso io avrei rischiato Douglas Costa fossi stato Tite perché è vero che ragazzi qualcuno lì deve stare fuori cioè guardate quanta qualità hanno hanno avuto in panchina Firmino e Douglas Costa e hanno avuto dentro di tutte e di più Neymar, Willian, Coutinho veramente di tutte e di più hanno avuto io avrei rischiato Douglas Costa perché secondo me poteva spaccare la partita nell'ultima mezz'ora gli ultimi venti minuti con i suoi strappi lo sappiamo bene Douglas Costa è gobbo e lo odio da rivale ma è straforte ragazzi io impazzisco per Douglas Costa e da sportivo riconosco che è veramente forte secondo me questa era la sua partita comunque niente molto molto deluso ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video che ne pensate del Brasile se rosicate per Coutinho fratelli nerazzurri soprattutto mamma mia ho visto quel gol proprio mi è tornato in mente quel mercato di gennaio quando abbiamo svenduto a Liverpool poi per carità col senno di poi siamo tutti più bravi però Coutinho si vedeva si vedeva da come accarezzava quel pallone cosa poteva diventare e vabbè vabbè gli errori Coutinho è un errore storico sicuramente dell'Inter e ce lo piangeremo ce lo piangeremo ancora perché è molto giovane e voglia giocare ancora Coutinho oggi migliore in campo Coutinho fatemi sapere la vostra ragazzi nei commenti sotto questo video come la pensate di questo pareggio del Brasile secondo voi chi ha giocato meglio arrivate a questo punto io dico a Croazia se la consideriamo una big iscrivetevi al canale ragazzi commentate lasciate un like di supporto alla serie dedicate ai mondiali domani non so se farò video sui mondiali forse per il Belgio forse per l'Inghilterra ma non lo so onestamente fatemi sapere se volete qualche video seguitemi ragazzi su Instagram vi lascio tutti i social in descrizione un saluto a tutti amici ci sentiamo in questi giorni per nuovi video attenzione perché da domani inizia una settimana importante sia per il mondiale sia per il calciomercato quindi seguitemi ciao ragazzi e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti